Da grande vorrei diventare avviatore, ma forse non so se lo diventerò veramente, perché in realtà io vorrei volare. Io da grande voglio essere una persona contenta di quello che fa. A scuola sto costruendo le mie ali, perché è una scuola che mi permette di riconoscere la bellezza, di emozionarmi, di acquisire i saperi lavorando insieme e di capire io chi sono e dove voglio andare. Mi piace questa scuola, perché è una scuola buona.